che dunque al primo di gioco all'opportunità di sbloccare il punteggio Ippoliti sul pallone la sua conclusione è angolata e c'è il vantaggio dunque dello stiamare dopo sessanta secondi dall'avvio del secondo tempo attenzione ad Agostino lo scarico invece per Monti che la rimette al centro e poi c'è il tocco di Ippoliti sotto misura che inventa una parabola incredibile quando siamo giunti all'undicesimo il raddoppio dello stiamare e probabilmente il punto esclamativo sul match numero undici laziale sempre ben comportato in area di rigore del Lecce Ippoliti ancora al volo ed arriva la tripletta per il capitano dello stiamare al diciannovesimo più tempo arriva qui il fischio di chiusura del direttore di gara Ostiamare batte Lecce 3 a 0 nel segno di Ippoliti il capitano dei laziali ha realizzato una tripletta lanciando subito a quota tre punti nel proprio girone la sua formazione Grazie a tutti Grazie a tutti